Gentili telespettatori, buona giornata sul nuovo caso dei dossieraggi contro e su centinaia tra politici e persone in vista in Italia. Dossieraggi pronti da utilizzare, da spiattellare notizie sui giornali, naturalmente non per fare del bene alle persone, ma notizie riservate che sarebbero poi finite e sono finite su alcuni giornali. Tutto questo, come ipotizza Crosetto, che è stato quello di aprire le denunce, è stato proprio quello di destabilizzare, dice la cosa più grave, il governo nascente, il governo di Giorgia Meloni. Quindi la domanda che si fa in maniera più forte Crosetto è questa. Pubblici ufficiali, pagati dai contribuenti, diffondono indagini costruite ad arte per infangare o procurare effetti e danni politici. Dice ho lasciato per ultima la domanda più grave, perché colpire anche la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, il più alto baluardo morale contro la criminalità organizzata? Cui prodest non certo alla magistratura onesta, che con coraggio lavora per difendere ognuno di noi. Temo che dietro questa gravissima vicenda ci possa essere un mondo grigio, un porto delle nebbie, che sarebbe interesse nazionale di svelare. Ho dunque deciso di sporgere una nuova denuncia per violazione del segreto istruttorio, alla fine di aiutare il lavoro dei magistrati e di ottenere la verità su una vicenda inquietante, ma anche a tutela dell'indagato stesso, l'ufficiale della guardia di finanza, perché io tutelo anche chi ha magari cercato di infangarmi, non so per quale motivo. Dell'ufficiale è data una descrizione che consente di identificarlo facilmente. Io sono garantista sempre, anche verso chi potrebbe essere imputato, di volermi fare male senza ragione o commettere reati contro di me. Per me ogni cittadino è innocente per tre gradi di giudizio. Di solito quando c'è qualcuno che non ti conosce, che ti vuole far del male molto probabilmente è per una questione di soldi, è uno che lo fa per soldi. Oppure c'è chi lo fa per forte ideologia, muri ideologici, livore, odio politico, ma rovinarsi la vita, rovinarsi la carriera, per far uscire delle informazioni riservate, la spiegazione dell'odio politico viene meno. Di solito tutto questo, il rischio che si corre, infatti questo ufficiale perderà lavoro e tutto, quindi di solito queste cose sono fatte per soldi, la vidigia, il volere sempre di più, non ti basta quello che fai, quello che guadagni, allora vuoi di più e poi finisci per perdere tutto quello che avevi prima, perché commetti delle illegalità. Quindi Crosetto lo sa bene questo, però vuole fare il garantista verso questa persona che ha portato notizie a lui inerenti, le ha portate fuori dalle stanze dove dovevano stare e le ha date a giornali. E Crosetto si chiede ma gratuito, cioè viene fatto in maniera gratuita o c'è qualcuno che paga? E' ovviamente che c'è qualcuno che paga. Questo ufficiale della Guardia di Finanza che lavorava alla Direzione Nazionale Antimafia faceva tutto questo per odio verso Crosetto e verso altre 100 persone. E' possibile che questo ufficiale della Guardia di Finanza odiasse tutte queste persone che non ha mai conosciuto né visto? Persone di diverso magari partito politico. Quindi questo ufficiale della Finanza faceva tutto questo perché odiava così in generale? Era un odiatore così generico? Non vi sembra strano? Centinaia di dossier su VIP, manager, industriali, politici? Come mai? Così per sport, per passare tempo, un hobby? Era un hobby fare uscire questi dossier? E' ovviamente al 99,99, 99 periodico e per soldi. Poi quanti soldi non si sa. Però possono essere notizie che possono servire per delegittimare o cercare di impedire la nascita di un governo. Oppure ci sono altre ipotesi. Tu fai questo, non in memoria di me, ma tu fai questo per un avanzamento di carriera. E come fai ad avanzare la carriera? Eh, magari le informazioni che tu fai uscire servono a un'area politica che fa in modo di ricompensarti facendoti avanzare di carriera. Non è la prima volta che succede che qualcuno che diventa il paladino contro qualcun altro improvvisamente viene promosso. L'abbiamo visto in passato. Eh? Quanti si sono distinti per attacchi politici poi sono stati promossi. Eh? Quindi il che sia stato fatto gratuitamente, questi dossier gratuitamente da una mente strana che fa tutto così per hobby, rischia di rovinarsi la vita come si è rovinato la vita per fare un passatempo. Questi dossier erano un passatempo. No. Per odio politico rischiare la propria carriera, la propria vita personale pubblica per un odio politico non credo proprio. E allora andiamo a ricadere su due ipotesi che rimangono. Soldi o carriera politica, avanzamento di carriera politica. Eh sì. Eh sì. Perché questo qui della Guardia di Finanza era anche un capitano, se non sbaglio. È un capitano. Era perché ovviamente ha finito la sua carriera. Un capitano della Guardia di Finanza che fa dei dossier così per hobby? O per soldi? Lo fa per odio politico? O per avanzamento di carriera? Ecco, le ipotesi non è che possano essere chissà quante. Sono queste quattro le ipotesi che mi sono venute fuori così parlando con voi. Non è che le avevo preparate prima. Lo vedete che i miei video non sono tagliati, i miei video non sono... non c'è un'edizione. C'è il video fatto e mandato in onda. Grazie a tutti e arrivederci a presto.